Buonasera, mi chiamo Riccardo, vengo dalla Sardegna e avevo bisogno di fare questo lavoro. Per ora sono molto contento, hanno messo sei impianti sia nell'arcata superiore che nell'arcata inferiore. Tutto lo staff sono stati proprio una squadra, formano una squadra che aiutano tutti coloro che vengono a fare le cure, aiutano sia mentalmente e ci danno tanto da fare. Vedo che lavorano tanto, sono in gamba, professionali e poi mi fa piacere che sono tutti giovani e questo mi fa pensare che cresceranno sempre di più. Io ho finito, riparto stasera nella mia regione e dovrò ritornare, ancora non si sa, però tra 5-6 mesi dovranno mettere i denti definitivi. Poi c'è anche l'allenatore, l'allenatore che è il dottor Palmas che pensa un po' a tutti gli schemi per essere un vincente. Poi c'è anche l'allenatore, l'allenatore che è un vincente.